Voi siete la seconda lista, l'Instagram. Perché è questo nome? Tornate qui, bastardi! Figli di... Ma voi chi siete? Io sono Giovanni Masciocchi, di terza B. Marco Forte, di terza B. Marco Consonni, di terza B. Davide Cittero, di terza B. Grazie a tutti. Votare me, te, o lui, o egli. Ah, ci sono! Perché vogliamo dare un tocco di personalità a questa scuola candidandoci in modo serio. Di che cosa ha bisogno... È accesa? È accesa? Ok. Di che cosa ha bisogno il Volta oggi? Un ballo! Un ballo! Un ballo! Un ballo! Un ballo! Sono le fumatori. No, seriamente il Volta ha bisogno di avere una lista come noi che ascolta le persone e dà voce a tutti i Volpiani. Un ultimo messaggio ai Volpiani. Let me take a selfie!